Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Benedetta e in questo video in collaborazione con Cannamela voglio darvi 10 e più idee per utilizzare le spezie in modo originale e creativo e trarre il meglio dalle loro qualità. Alcune idee me le avete suggerite voi, alcune le ho trovate in rete e altre vengono dai consigli della nonna. Le spezie sono utilizzate da sempre, arrivano da ogni angolo del mondo, tutti l'abbiamo in casa e di tantissimi tipi, ma spesso restano inutilizzate, quindi in questo video vorrei darvi consigli pratici e idee per utilizzarle al meglio sia in cucina che in casa e sfruttare al massimo le loro innumerevoli proprietà. La prima idea che voglio darvi è quella di usare la curcuma come colorante naturale e questa è proprio una di quelle idee che mi avete dato voi. Per dare agli impasti un bel colore giallo aggiungiamone un po' sia nelle preparazioni dolci che in quelle salate, ad esempio nella crema pasticcera, nel pan di spagna, nella pastella, nella frittata, insomma tutte quelle volte che vogliamo ottenere un bel giallo intenso. Un altro suggerimento riguarda i chiovi di garofano, molti di sicuro già lo conoscono, però è un trucchetto che voglio condividere con voi perché mia nonna lo fa sempre. Quando prepariamo un ragù o un bollito inseriamo nella cipolla i chiovi di garofano così in questo modo avremo l'aroma senza ritrovarci nel piatto e sarà poi facilissimo tirarli fuori. E a proposito di chiovi di garofano un altro trucchetto, un consiglio che mi ha dato il mio macellaio di fiducia Luciano. Funziona benissimo per allontanare le mosche. Allora si prende un limone, si taglia a metà e si infilano all'interno dei chiovi di garofano. Poi il limone si posiziona dove più serve, quindi vicino alla finestra o dove stiamo lavorando, ad esempio in cucina o su una scrivania. Non vedrete più volare una mosca assicurato. Avete mai pensato di aggiungere le spezie al pangrattato per ottenere una panatura più saporita e sfiziosa? Ecco un'altra idea, mescoliamo al pangrattato le spezie. Possiamo aggiungere l'erba cipollina, la salvia, il rosmarino, l'aglio macinato e per una panatura piccante aggiungiamo il peperoncino in polvere o la paprika. Zucchero a velo, aromatizzato alla cannella. Prima di portare in tavola i nostri dolci, li spolveriamo con dello zucchero a velo, quindi se l'abbinamento lo permette mi piace aggiungere un po' di cannella in polvere allo zucchero per dare un sapore più particolare ed originale. Io faccio così, in una ciotola mescolo lo zucchero a velo con un cucchiaino di cannella e poi lo spolvero sopra. È un abbinamento perfetto per i dolci, le crostate, i biscotti a base di mele, ma va bene anche per tantissimi altri dolci. Per placare un mal di denti improvviso prepariamo e teniamo da parte un macerato di chioio di garofano. Per prepararlo ci serviranno 100 ml di alcol puro a 95 gradi e 20-25 chioioi di garofano e lasciamoli in macerazione per un paio di settimane. Poi filtriamo il liquido. Possiamo usare il macerato diluito con l'acqua per fare degli sciacqui oppure da usare puro direttamente con un contagoccia sul dente. Avete presente quell'odore pungente che sentite quando andate dal dentista sono proprio i chioio di garofano. Chiedete conferma al vostro dentista se siete curiosi. Stecche di cannella nei cassetti. Vi piace il profumo della cannella come piace a me? Allora utilizzatela come faccio io. Ne mettete due o tre stecche in un sacchettino, poi mettete questo sacchettino nei cassetti, nell'armadio, nella scarpiera oppure appeso ad una gruccia. Vi profumerà il bucato e aiuta anche a tenere lontano le tarme. Siete amanti del caffè d'orzo? Allora vi do un piccolissimo consiglio. Potete provate ad aggiungere mezzo cucchiaino di semi d'anice direttamente nella moca quando lo preparate. Scoprirete un gusto di un aroma unici. Il prossimo consiglio me l'avete dato voi. Tisana ai semi di finocchio. Basterà far bollire dell'acqua, aggiungere un cucchiaino di semi di finocchio, lasciare in infusione qualche minuto e poi filtrare. Ecco che avremo una tisana calda dalle proprietà digestive e tonificanti da consumare a fine pasto. Non so voi, ma io amo mangiare piccante e preparare l'olio piccante. in casa è facilissimo. Io faccio così. Prendo 15 grammi di peperoncino frantumato, poi preparo mezzo litro di olio extravergine d'oliva. Metto il peperoncino in un pentolino, aggiungo pochissimo olio, accendo il fuoco e faccio soffriggere per pochissimi secondi. Quindi spengo, lascio raffreddare e aggiungo l'olio d'oliva che avevo messo da parte. Poi preparo delle bottigliette e alcune le tengo io, ma altre le regalo a parenti amici che apprezzano sempre il pensiero. Grazie a tutti. E in ultimo vi suggerisco il Golden Milk, la famosa bevanda orientale a base di curcuma dalle mille proprietà. Io di solito faccio così. In una tazza metto un cucchiaino di curcuma, aggiungo un pizzico di pepe, una puntina di cucchiaio di zenzero e un po' di cannella. A questo punto si può aggiungere il latte caldo. Si può usare sia il latte vaccino che una bevanda vegetale, come il latte di soia, il latte di riso o altro. Io lo dolcifico con del miele, ma si può usare il dolcificante preferito. Va benissimo lo zucchero di canna, la stevia, lo sciroppo d'agave. Insomma, quello che utilizzate di solito. Una tazza al giorno è perfetta per recuperare energie e buon umore. Riguardo al Golden Milk, mi piacerebbe sentire le vostre esperienze. Fatemi sapere nei commenti se lo fate, come lo preparate e se avete avuto dei benefici da questa magica bevanda. Ok, questi erano dieci e più consigli per utilizzare le spezie in un modo originale e alternativo. Ringrazio Cannamela per avermi dato l'opportunità di parlare delle spezie. Aspetto anche i vostri consigli, perché so che ne conoscete tantissimi, quindi scrivetele pure nei commenti. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto e possa esservi utile. Se è stato così, tanti pollici in su, condividete e mi raccomando, se non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. A presto! Grazie! Grazie a tutti!